buonasera a tutti ci troviamo qui per la nostra settima settimana del protocollo wow workout of the week pensato per fare le lezioni di scienze motorie a distanza prima iniziamo con un bel circuito di riscaldamento l'argomento che trattiamo questa settimana è come variare la difficoltà dei nostri esercizi vedremo dei modi inizialmente per farli in maniera più semplice degli esercizi facilitati il modo più semplice per facilitare degli esercizi a corpo libero è cambiare gli angoli di lavoro in modo da renderli più agevoli vediamo invece adesso come rendere più difficili i nostri esercizi le modalità sostanzialmente sono tre aggiungere delle resistenze che possono essere degli elastici o dei sovraccarichi oppure variare gli angoli di lavoro in modo da renderli sfavorevoli oppure ancora farli in condizioni di instabilità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e anche per questa settimana abbiamo concluso mi raccomando di completare l'allenamento con lo stretching il compito che vi assegno è quello di creare ognuno il suo personalissimo circuito di allenamento con esercizi facilitati o più complicati a seconda della vostra abilità buona serata grazie a tutti